Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi primo appuntamento con una rubrica nella quale andiamo ad analizzare quelli che sono i migliori giocatori per quello che è il nuovo meta che abbiamo analizzato a seguito delle regional finals che sono state settimana scorsa, a seguito della patch che è stata rilasciata settimana scorsa, dove abbiamo visto come l'abuso dei filtranti sia diventata una delle meccaniche più utilizzate dai top player ma anche appunto dai player in generale. E per cui oggi come primo appuntamento andiamo a vedere quelli che sono gli attori protagonisti in quella che è la difesa di questa situazione di gioco ovvero i difensori che ovviamente devono cercare di scappare verso la nostra porta per evitare che l'attaccante avversario si ritrovi a tu per tu con il nostro portiere. Si tratta dei giocatori che per il 70% dei casi ho analizzato, quindi il feedback che vi posso dare sarà molto accurato su quella che è la loro valità o meno in game. Dunque senza perderci in ulteriori chiacchiere direi di passare immediatamente sulla schermata di gioco dove ci attende il primo difensore che trovo assolutamente iper efficace con questo gameplay. Quindi medaglia d'oro per il buon Raffaele Varane, insomma un giocatore che non scopriamo di certo oggi, 1,91m normale alto, 79 di accelerazione, 85 di velocità per cui parametri che rispecchiano esattamente quanto detto sino ad ora in quanto risulterà efficace nell'andare a coprire quelle che sono gli inserimenti degli attaccanti avversari, buoni anche i passaggi sia il corto che il lungo per un difensore centrale, ottima le reattività, ottime le statistiche difensive, in particolare la lettura che gli permetterà di andare a seguire tanti interventi automatici e ottimi anche i parametri di forza e aggressività. Per quello che è un giocatore che abbina dunque ad una buona componente di CPU anche un'ottima manualità, Stovaran è molto pulito negli interventi, con l'L2 temporeggia molto molto bene ed è per questo motivo che occupa il gradino più alto del podio in questa mia personalissima classifica e anche uno dei miei due titolari. A occupare quella invece che è la seconda posizione del podio, quindi milaglia d'argento e secondo posto di titolare nella mia squadra competitiva è il buon Kyle Walker nella sua versione IF, quindi difensore centrale non terzino destro, un metro e 83 alto alto e qui magari qualcuno potrebbe storcere il naso e dire a Riberoski sei impazzito, ci stai consigliando un difensore con alto alto che quindi ci lascia dei buchi in difesa e anche un boc gracilino. Non è assolutamente così, infatti quell'alto alto in realtà permette a questo Walker di fare tanti anticipi automatici. Ve lo ritrovate spesso e volentieri in marcatura preventiva sull'attaccante avversario, questo vi permette dunque di poter recuperare palla alta e di poter ripartire. Infatti, come vi ho detto anche nel tutorial di attacco, spesso e volentieri le migliori azioni offensive nascono da una buona difesa e recuperare palla alta è proprio la componente principale di tale fattispecie. Per quanto riguarda le statistiche, insomma, parlano per lui 90 di accelerazione e 95 di velocità scatto che si vanno a inquadrare, ancora meglio di Varane probabilmente in quello che è il contesto di difesa dei filtranti, ottimi passaggi per un difensore centrale, tanta roba anche la statistica di reattività, ottime le statistiche difensive, un po' meno forza e aggressività, ma io vi posso assicurare che questo Walker è pulitissimo negli interventi, abbina ad un'ottima manualità anche tanti autoblock, nonostante la lettura difensiva non sia delle migliori, e non mi dite con ombra che ancora arriva a tot perché c'è il video sugli stili intesa che sbugiarda tutte queste teorie massoniche, quindi tanta tanta roba Walker, non occupa la prima posizione semplicemente perché è un metro e 83, quindi rispetto a Varane risente lievemente di questo deficit d'altezza, ma vi assicuro che non è un problema perché anche se in campo aperto va a coprire su un Cristiano Ronaldo eccetera eccetera, spallate questo qua, non lo spostate, anzi è lui che sbilancia l'attaccante in corsa, quindi GG per Walker, tanta tanta roba. A completare il podio medaglia di bronzo troviamo il buon Gio Gomez, quello che è stato sostituito da Walker nella mia squadra titolare, un metro e 88, normale normale, anche lui una carta veramente tanta tanta roba, 80 di accelerazione e 87 di velocità scatto che quindi gli consentono di poter recuperare in velocità, ottimo passaggio corto un po' meno il passaggio lungo, ottima la stazio di reattività, ottimi le statistiche difensive in particolare con la lettura difensiva 85 che gli permette di poter fare tanti interventi automatici e ottimi parametri di forza e aggressività. Questo qui è un giocatore che io reputo un po' più manuale rispetto agli altri due, forse un pelo in più, ma proprio un pelo in più di quel Walker, che secondo me qualche interventino automatico in più, nonostante abbia meno lettura difensiva, lo fa, soprattutto per quanto riguarda bloccare la palla proprio sui filtranti, non so, forse perché è più basso, non saprei. Ad ogni modo questo qui comunque abbina ad una ottima manualità, anche ottimi interventi automatici e si colloca al gradino più basso del podio semplicemente perché risulta un po' più lento di Kyle, ma questo qui l'ho usato veramente per tante partite anche in qualifica e devo dire che mi ha fatto veramente, veramente impazzire. Al quarto posto, quindi cucchiaio di legno, troviamo il buono José María Jiménez, quello è un difensore secondo me tanto sottovalutato perché praticamente è una sorta di doppione di Varane, un pochino più basso con normale alto e in Liga è secondo me il secondo miglior difensore, ovviamente, e questo qui vi risolve anche tanti problemi di intesa, magari con un Llorente, con un Valverde, eccetera, eccetera. Ottima statistica di velocità, con 80 di accelerazione e 84 velocità scatto, buono il passaggio corto e anche il lungo per un difensore, ottima reattività con 85, ottime statistiche di difesa con la lettura difensiva che anche in questo caso gli permette tanti interventi automatici, autoblock, eccetera, eccetera. E qui abbiamo i parametri di forza e aggressività più alti, infatti questo qui quando si attacca all'avversario non lo lascia mai fin quando non gli ha preso palla, pulitissimo anche lui negli interventi, tutti questi sono giocatori molto reattivi, quindi quando vanno a fare i contrasti, anche quella volta magari vanno a perderlo, sono proprio pronti per poterne fare un altro e recuperare palla immediatamente, quindi tanta roba il buon Jose Maria Chimenez. E vi ripeto che questo qui secondo me al momento è tanto sottovalutato e anche questo l'ho provato e mi è piaciuto veramente un casino. Ad occupare invece la quinta posizione abbiamo il buon Klosterman che è il più veloce insieme a Walker, è il secondo più veloce e occupa solo la quinta posizione però. Come mai accade ciò? Questo accade perché purtroppo non incide su di lui la valutazione tecnica, diciamo, ma piuttosto tattica perché è meno ibridabile chiaramente rispetto ai giocatori che abbiamo visto in precedenza. Tuttavia è un giocatore 1,87 m, normale, normale, con 82 di accelerazione, 91 di velocità scalto, ottimo il passaggio corto un po' meno e lungo, reattività 89, ottimi le statistiche di difesa con lettura difensiva 89, buona la forza e un po' meno l'aggressività, ma questo qui io vi assicuro che contrasti non ne perde, magari di body type è un po' più gracile rispetto agli altri, ma è molto molto possente in realtà, perché essendo 1,87 m comunque lo sentite negli autoblocchi perché si allunga eccetera eccetera, quindi non credete anche che questo lanciato in campo aperto si fa spostare, anzi è lui che sposta gli altri, ve lo posso garantire, fa un casino di interventi automatici, ma anche questo se utilizzato per difendere alto in maniera manuale il suo lo fa alla perfezione e i filtranti li copre alla grande. Ad occupare l'ultima posizione, la sesta di questa classifica, è il Boljus Koundé, 1,78 m, normale, normale. Sesto posto meritato per lui direi, ah, oltretutto ricordo che Klosterman e Koundé sono due carte dinamiche, quindi possono continuare a gradarsi se vanno avanti nelle competizioni l'Ipsia e il Siviglia, tuttavia questo qui, 1,78 m è un po' piccolino, quindi per un DC diciamo che questo secondo me è un po' un problemino, nonostante comunque abbia buoni parametri di velocità, buoni parametri di passaggio, ottima reattività, ottime stats difensive e ottima forza e aggressività. Questo però, con quel 1,78 m, magari nonostante è veloce, ha una falcata meno ampia rispetto ai suoi colleghi e in più, ovviamente, essendo 1,78 m, anche nei contrasti magari qualche volta potrebbe risentire della fisicità degli attaccanti avversari, per cui occupa l'ultima posizione per questo, ma ciò non toglie che, quando la prendesse un upgrade, magari potrebbe essere rivalutato. Magari per qualcuno potrà essere, diciamo, strana l'assenza di Virgil in questa classifica, ma invece per me no, visto che Virgil al momento in competitivo non se ne vedono perché con 90 di overall non si sposa con le restrizioni e in più in questo meta il suo 77 di velocità e il suo essere poco reattivo si sente veramente tanto, quindi al momento Virgil fuori da questa mia valutazione per quello che è il meta attuale, ovviamente questi difensori sono sicuramente superiori anche di un Vidic o di un Koeman dagli swap, quindi preferite sicuramente loro e nulla ragazzi. Per quanto riguarda questo video, al solito è tutto, vi ricordo di lasciare un like e un commento, iscrivetevi al canale perché stiamo crescendo a bomba e sono strafelice, vi ricordo tutte le info in descrizione per le live quotidiane sulla piattaforma Viola dove mi trovate e nulla ragazzi, non mi resta che salutarvi, ciao ciao!